In Bohème, secondo me, più che una difficoltà vocale, sia una difficoltà interpretativa, perché il personaggio deve evolvere, ma evolve nella malattia, quindi nel dolore, nella disperazione, quindi parte da, io la penso così, una Mimì, una ragazza giovane, non in piena salute, però comunque ancora giovane, con delle speranze, dei sogni. La difficoltà di Bohème è, diciamo, che sarà il terzo atto, vocalmente, ma anche interpretativamente parlando. Sì, d'accordo, perché è difficile per te, come un uomo, o anche un uomo, in questa storia specifica, come un uomo, non pensare a tua storia di vita, a tua dolore, perché tutti eravamo sicki, ok, non così sicki, ma tutti eravamo separati quando eravamo, quando eravamo giovani, e ci eravamo attraverso, e molte volte eravamo attraverso, ricordando questi momenti nella mia vita privata, e è stato molto dolore di non chiedere, quindi, al stesso tempo, devi cantare, e io sono tipo, no, non c'è per te, è buono portare queste emozioni così vicino, ma così vicino che non puoi cantare. Sì, che interpretare il ruolo è la parte più difficile, vocalmente, Puccini scrive super bene, per la voce, è come un balsamo cantare nini. E poi, come dici tu, Anitta, non chiedere, è una delle parti più difficili di questo ruolo, perché, anche nel quarto acto, ogni parola e come la armonia è scritta, è una forma così trágica di exhibire a un personaggio, con dire, sì, sì, perdona, ora sarò buona, perdona, ora sarò buona, c'è tanto significato in questa frase, a mi mi distrugge, e ogni volta, anche nel testo, è così come, mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo. Non posso chiedere un momento, è tutta l'opera, è perfetto la forma che è, da l'inizio all'inizio, è una storia di vita, tutti in pubblico può identificare con questo, essere jollo, avere grandi sogni, poi la realtà viene e ti mette in fronte, un amore o un amore mora, o una famiglia vicina, e è... è vita, vita compresa in due ore. Io devo dire che sì, ho una parte favorita. Quando si tocca il motivo di mi mi la prima volta in l'orchestra, quando lei appare la prima volta, chiedendo lui a Rodolfo, è la introduzione più bella del mondo, e io, osea, non lo so voi, però sentire questo momento di, devo entrare nel escenario e il tema comincia... è molto emozionante. Ma per me è il terzo atto, il duetto con Marcello, perché esco quasi sempre devastata dalle lacrime, sì. Quello per me è il momento più emozionante. Grazie. 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 Salute. 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 Salute in Lungostia.